Siamo a San Daniele sotto all'acqua, davanti a noi è completamente allagato Guardate, queste sono le immagini in diretta È rivolto al derivolo, io non sappiamo come passare adesso È una cosa indescribile, siamo in mezzo a un piluvio Guardate, è tutto allagato Sta scendendo di tutto Siamo in grande difficoltà qua, stanno... Alla siesta le macchine stanno galleggiando, alla siesta Siamo bloccati, siamo bloccati Siamo bloccati, siamo Si stanno allagando pure i negozi È drammatica la situazione qua Sta arrivando di tutto da giù Siamo nel panico, siamo Oddio santo Vedete, la strada è completamente allagata, ci troviamo a San Daniele qua Ci troviamo a San Daniele, è una cosa indescrivibile, non riusciamo a passare L'acqua è troppo alta Dobbiamo tornare indietro Dobbiamo tornare indietro La macchina va dietro marcia Si stanno nel macchino allagata e alla siesta Si stanno nel macchino allagata e alla siesta Stiamo viaggiando in condizioni pietose, guardate Come cazzo ci arriviamo? Noi teniamo la macchina dall'altra parte Stendiamo la macchina dentro Piano La strada è allagata Guardate, siamo in una situazione drammatica Stanno cercando di Noi teniamo la macchina Noi a piano stanno scendendo le macchine giù alla siesta E poi sono in un'altra parte Guardate, sta in una situazione drammatica qua Ecco qua siamo a via Maiano, è una cosa indescrivibile Siamo da poco scesi Teniamo la macchina dall'altra parte Per il telefono di penisolatv.net Stendocannel.tv ci troviamo nella via Maiano a San Daniello Guardate, non si può passare Non si passa È allagato È tutto allagato È una cosa indescrivibile L'acqua sta salendo Sta salendo l'acqua Stanno cercando di Allargare il tombino Ma la macchina tenta di passare Questi sono scene drammatiche Ci troviamo qui a San Daniello Giù alla siesta Le macchine sono rimaste bloccate Sta piovendo Dobbiamo raggiungere un'altra macchina Guardate L'operatore è in buccia di che si trova sul posto Ma sta in condizioni pietose È tutto allagato Guardate La massa di acqua che sta scendendo Guardate Lo teniamo la macchina dall'altra parte Ma si è bloccati L'acqua sta avanzando Si La signora ci va a entrare nel proprio bar Per vedere cosa sta succedendo Guardate Tutto allagato È entrando acqua Stiamo in condizioni pietose Guardate È tutto allagato È una cosa indescrivibile Guardate È tutto allagato Non sono disperate Sta entrando acqua Sta piovendo da ora È qua Non sono disperate Niente Non ti passa No Sono le macchine allagate Stiamo in condizioni pietose Stiamo qui a via Maiano È indescrivibile Stiamo cercando in tutti i modi di fare fluire l'acqua Ma non ci riescono Stiamo solo di chiedere l'emergenza Stanno chiamando Guardate Dove sta la protezione civile di San Daniello Dove sta la protezione civile di San Daniello Ci chiediamo questo Non esiste la protezione civile di San Daniello Non serve a niente Qua abbiamo le macchine bloccate Stanno cercando manualmente Come vedete dall'immagine Di fare le fluie l'acqua Noi ci chiediamo Dove sta la protezione civile di San Daniello Che non esiste Siamo roba da terza mondo Perché queste le riprese in diretta Dopo l'ora in blusa Dica che si trova sul posto Guardate che massa di acqua Alla in fondo a tutto Lo stanno di fare Cosa sta scendendo giù Siamo in grave emergenza Di mal tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti